No, guardami Oh no, però non puoi avere quella faccia felice Visto che sono qua mi mangiò Per passare il tempo Dovresti cercare di liberarti, non mi mangiare gelato No, sto bene qua, sto bene qua, guardami Anche il consolino mi guarda un po' perplesso, guardalo E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Stef E oggi siamo nell'Ice Cream Tycoon Ovvero un tycoon fantastico dove dovremmo costruire ovviamente la nostra gelateria E si sa che quando si parla di gelato io sono sempre in prima fila Prontissima a costruire tutto e anche a mangiare tutto Non mi hai notato ancora? No, che stai facendo? Mi sto mangiando la mia coppetta di gelato Ma guarda che buona Che buona, che poi ha tutti i gusti che mi piacciono Perché noto la panna, la fragola, tutte cose che mi piacciono Buonissimo, buonissimo Comunque non so bene perché abbiamo un corpo diverso dal solito E camminiamo in modo molto strano Però faremo finta che sia tutto ok Dico solo che abbiamo un Game Boy Che se tu clicchi ti compare proprio un vero e proprio gioco Vedo, 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 è fantastico C'è roba strana che andremo a vedere fra un po' Ma prima di tutto abbiamo una produzione da sistemare Quindi vieni con me per favore Guarda, praticamente noi creiamo i cubetti E se tu guardi dove vanno Vanno direttamente nel furgoncino Perché così poi tu vai a vendere i gelati in giro, ho capito? E certo, certo, mi sembra giusto Perché la gelateria deve avere anche il furgoncino Esatto Mi sembra giustissimo Non c'è una vera gelateria Ma questo secondo te lo potremmo guidare? Perché io vedo un tasso qua Secondo me, prova a salirci Aspetta Ma lo posso guidare? Oh mamma mia Me ne sto andando senza di te Aspettami Mi ruvo tutti i gelati e mi mangio da sola Eccomi Fantastico Iniziamo a fare un po' di produzione 500 per, credo, la crema Perché ovviamente stiamo facendo un po' Certo, certo Tutti i gusti Questo qua dovrebbe essere tipo lo zucchero E ne so, a me lo chiedi Tu la stai facendo la gelateria C'era scritto sugar Credo di sì Salve, buongiorno Buongiorno Lei è un consolino Vuole un gelato? All'aspetto da consolino Eccolo, eccolo Tieni il gelato È gratis Solo per lei Mangia Io non so perché non riesco a saltare Vabbè, dobbiamo fare il giro Fai il giro Perché siamo troppo grossi Siamo troppo grossi Ancora dal take-in della palestra Alla fine c'è rimasto un po' l'effetto Capito? Certo Si è un po' mosciato Perché ovviamente non facendo più esercizi È diventato un po' più moscio Però siamo rimasti grossi Questo è quello che ho detto io Nel take-in della palestra Se ti ricordi che ti ho detto Dopo che fai l'allenamento Come premio ti mangi i gelati E questo è il risultato È vero Senza farla apposta Perché poi non ci abbiamo minimamente pensato A questa cosa Però è successo lo stesso Io sì, sono ancora raffreddato Dallo scorso take-in E mi è rimasto Dovremmo avere i soldi Per il boost Che credo che ci aumenti Di un sacco i soldi che facciamo No, non fa bene Non possiamo saltare No, allora non ci puoi salire Io ci salgo sempre nella produzione Questa volta non me lo fanno fare Però va benissimo Va bene Va bene Va bene Va bene Chocolate ice cream maker Giustamente Vai, vai, vai È una bomba questo È in effetti il colore del cioccolato Guardalo Guardalo che bellino Sembrano le palline di gelato Quando vai in gelateria È fantastica Esatto, esatto La prossima costa 6500 Mi sto incastrando Abbiamo 600 Quindi ci vuole un pochettino E quindi ti porto a provare Delle cose divertenti Ok Tu seguimi sulla fiducia L'unica cosa che non mi piace È che non è ancora dato forma Al tycoon Abbiamo fatto solo la produzione Ma non mi hai fatto vedere nulla Della gelateria Amica mia Leggi Wall 2005 Wall 2005 Wall 2005 Ce ne sono tantissimi Ovunque costano 2005 l'uno Quindi mi dispiace Ma devi avere un po' di calma oggi Perché sembra un po' Io voglio subito la gelateria Un po' costoso Subito Invece ora che cosa ti do? Cosa mi dai? Un bel parkour No Sì Non mi piace il parkour Vieni, vieni Non mi piace È stranissimo poi con questo personaggio Ma io mi sono Cosa ti è successo lì sotto? Mi sono incastrata Tu non riusci più a muoverti? No, non riuscirò mai più No, no Ok, ok, vero male Guardami No Guardami Oh no Però non puoi avere quella faccia felice Visto che sono qua mi mangiare Ma no Per passare il tempo Dovresti cercare di liberarti Non mi mangiare gelato No, sto bene qua Sto bene qua Guardami Ma dai Anche il consolino mi guarda un po' perplesso Guardalo E anche lui qua davanti a guardarmi un po' strano Dai Vedi una incastrata che flutta con quella faccia tutta felice Che mangia gelato Diciamo che non è proprio normale Ma son pazzi a farci fare una cosa del genere Oh mamma mia Bravissima Grazie Arrivo E adesso qui Sì È stranissimo come salta il personaggio Lo so, l'hanno modificato troppo Non sono abituato Aiuto Ok, meno male Sonichi ma raggiungimi, raggiungimi Che succede? Eccomi Vado qua? Sì Ah, e ritorni giù Ok, perfetto Però l'abbiamo finito Fantastico Aspetta Guarda i tuoi soldi Tu non hai mai preso il tuo taikune Quindi vuol dire che siamo stati ricompensati con 1200 dollari Solo per averlo fatto Ma secondo te ce li ridai ogni volta? E quindi è un altro modo per farmare i soldi dato che è molto lento Ci proviamo Ti lascio tutto il giorno a fare il taikune? Ah, a fare il parkour qua? Io ti lascio qua? No, fanno il tuo posto mio, ora io non ne ho voglia Ma io poi non posso spendere nel tuo Pazienza, pazienza Mi manco sceduta a mangiare il gelato Antipatica Io nel dubbio sono risalito Adesso ti dico se me li ridà Allora, sono a 2400 Ok, sto guardando Sì, 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 sì Io ti lascio tutto il giorno qua Così mi fai una gelatoia gigante Molto interessante ragazzi Io prezzo quando nel taikune ti danno diversi modi per fare soldi Ma guarda qua Abbiamo 20.000 da prendere Perché comunque siamo rimasti un pochettino lì a fare parkour E certo Quindi posso comprare Allora, il creamer Pamosissimo Poi il sugar E infine il flavor booster Che non ho i soldi perché costa 15.000 Quindi per quello non ho ancora i soldi Comunque la produzione non l'abbiamo neanche minimamente finita Perché poi guarda C'è tutta questa zona ancora da completare Lo so, è vero Quindi è bella grande la produzione Vorrà dire che comunque arriveremo a fare tantissimi soldi Spero, io non canto vittoria perché non so quanto sia veloce Speriamo, speriamo Secondo me è arrivato il momento di provare il giochino Ok, ok, ci sono Allora Allora, aspetta, insieme Insieme Vai 3, 2, 1, start game Ok, tutorial Con A e D ci muoviamo e con W salti Ah, ok, perché dicevo ho provato assolutamente ma mi è saltato il mio personaggio Ok, così Sì Ci siamo? Ok Sì, credo di sì Allora, bisogna schivare queste rocce, mamma mia Le ho prese tutte Attack con Enter Ah, con invio Ma è difficilissimo però Però ti rileasce, è bellissima come cosa Ah, e poi invio Più W fa un salto gigante Hai visto? Allora, aspetta Fallo Wow Hai visto quanti soldi? Hai visto? Incredibile Bello Epico Ok Ah, ho preso la roccia Ahia, anche io È stato un errore Oh no, iniziano le pietàforme che si muovono Comunque, mentre giocavamo a questo bel giochino abbiamo fatti i soldi E, oh mamma mia, ce la posso fare? Si è morto No, ma no No Le parti del mio corpo in mezzo al gelato, no No, magari valgono molto, dai Valgono molto Un gelato di Steph Come lo vuoi chiamare il tuo gelato? Steffo 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 è bellino Steffo è bellino Che questo vuoi? Steffo Vedi, ci sta benissimo Comunque mi esce il boost numero due Quindi adesso dovremmo fare un bel po' di soldi in più E adesso ti concedo di iniziare a fare un po' di forma del Tycoon Oh, finalmente il momento preferito del Tycoon Il mio momento preferito Partiamo dalla parte di davanti Oh mamma mia, ma è troppo bellino Aia Ma è troppo carino Guarda No, non ci credo che è così bellino Però sono molto particolari le mura Sì Bellino Guarda Oh che carino Ho finito i soldi Eh sì, immaginavo Immaginavo, immaginavo Però Ciò che tu non sai È che ci sono altri parkour E invece lo so Perché mi sono guardata in giro E ho notato che ce ne sono diversi Andiamo Andiamo Tutti da provare Tutti per far soldi oltretutto Questo è più una sorta di equilibrio, no? Sì, inizia così Ma poi mi sa che c'è anche del parkour Quindi stai concentrata e stai attenta Ok, ci sono Oh mamma mia Concentrazione Una paura di cadere, incredibile Chissà quanto ci pagherà anche questo Ok, sì, si inizia a saltare E allo stesso tempo è tutto finissimo Quindi è proprio una tortura Sono cadute infatti Ecco qua È perché siamo troppo grossi Siamo davvero troppo grossi Allora Ho 1300 E passo a 1500 Che questo non paga bene No, ma c'è un po' troppo tirchi Esatto E infatti guarda che bellino E qua abbiamo sbloccato un po' di arredamento finalmente Guarda Guarda le cose belline Oh mamma mia Dove sei? Ti ho visto volare Aiuto Esatto Stavo volando Ma ci possiamo sedere? Sì Anche se siamo giganti Ci possiamo Guarda E ci mandiamo È un po' flipato però Carino Questa è la dispensa Datemi il gelato Ti farei notare che hanno gli occhi con i soldi Questi vogliono solo soldi Secondo me Vedi che non volete lavorare bene Ecco perché non ti fanno prendere Non fanno il gelato per passione Ma per fare i soldi Non va bene ragazzi Io vi asciuto per fare un buon lavoro E invece voi avete i cogio dei dollari Allora compriamo tutti i tavolini per favore Ho notato infatti che sono apparse tantissime cose Una volta che mi ho preso Guarda come sto correndo Infatti ho paura che mi sponi qualcosa in faccia Eccolo qua Uh ma questo che è? Questa è la granita? Aspettami Aiutami Mi hai costruito un tavolo addosso Non l'ho fatta apposta Perché mi hai fatto questo? No Oh no Non mi posso togliere Qualcuno la salvi Non saltassero in testa Mi saltano tutti in testa Guardali Liberatela Fanno bene dai anche io salterei in testa Sopra una situazione del genere Credo di sì Il problema è che ormai salgo sopra le cose E compaiono circa 5 minuti dopo Quindi È un bel problema questa lag Ripeto Ho paura che stiamo per crashare proprio lì 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 Speriamo di no Speriamo di no Ho una paura matta Ok È comparso almeno il pavimento È spaventoso Guarda l'attico Ma questo è il terrazzino Non è un attico È un terrazzino È fantastica questa gelateria Perché è tutta rosa Hai visto anche il tetto Guarda Dezuma Guarda il tetto là È tutto rosa È fantastico Cioè la gelateria dei miei sogni questa Io potrei gestire questa gelateria Sì Sarei perfetta Ti ci vedrei benissimo Soprattutto con la tua Faccia Perché compaiono cose Che io non ricordo di aver cliccato Ho paura Ho paura Comunque ho scoperto perché è lento Il take one con la produzione Ecco che fino a fatto il nostro gelato Aspetta Mi stai dicendo che qui si sta sprecando del gelato Moltissimo gelato Mi stai dicendo che qua Il gelato Cosa vorresti dire a riguardo Dai Facci Dici la tua Sono arrabbiatissima Perché tante cose si possono sprecare Mi faccia vedere la faccia Ma non il gelato Non la vedi? Non mi sembra molto arrabbiata No è arrabbiata Non la capisci? No no Sì sto molto arrabbiata A me sembra felicissima No no non è felice Sicura? Sì certo Da che cosa deduci che sei arrabbiata? Perché non si può non essere arrabbiata Arrabbiati quando si butta Sì ok Ma la sua faccia è felice E allora fai una cosa Sì Guarda quella di signor maialino Ok Quella è quanto io sono arrabbiata Ok quindi rappresenta le tue espressioni facciali Signor maialino Ho capito Sì sì Guarda Ecco qua ti ho detto di levarti Dannazione Adesso ti salto io soffrendo la testa No Perché questo destino è capitato anche a me Tieni il gelato anche per te Sono tristissimo Giustamente il gelato anche a te Tieni Tieni Uffa Deluxe candy bar Arrivo Quindi mi devi comprare il deluxe candy bar Eccola Giustamente sono super curiosa Eccola Togliti Prima che rimani di nuovo incastrato Aiuto Aspettiamo qua Ok Aspettiamo così Allora di che cosa vuoi parlare nel mentre? Mi sembra che oggi ci sia una bella giornata vero? Sì C'è freddo però Infatti è la prima volta che ci vedete a Maglione quest'anno vero? Sì Allora non si sa perché qua Sì Dato che dobbiamo Eccola Eccola Ok finisce il disco Oh mamma mia Ma che buoni questi dolci Allora Ci sono i biscottoni col gelato Gli smarties Ciambelle Ma queste sono tutte le cose poi per decorare il gelato Gli smarties Tutte le cose dolcissime buone Che bello Mette allegria Mette allegria O voglia di comprarmi un gelato Adesso finiamo esco Mi prendo un gelato E morirò congelata Perché c'è un freddo incredibile Quindi abbiamo finito il piano di sopra? Eh Suppondo di sì Ah no qua 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 Attenzione attenzione Perché ci stava per sottire le casse Esattamente Giustamente Che compariranno prima o poi E quindi continuo il mio discorso Ok Qua stavo facendo un caldo incredibile E noi eravamo tutti a magliettina Poi il giorno dopo ci svegliamo E c'è freddo È maglione Cioè non ci sono le vie di mezzo Non esistono più le vie di mezzo Ed ecco le casse Vedi le mie storie funzionano Funzionano Ma cosa c'è qua? Ah i cassieri Giustamente Giustamente Fammi controllare se nel terrazzino C'era qualcosa che c'è suggetto No No credo di no Ma il bellino ci sono pure i fiori Non li avevo notati qua i fiori Ma li hai visti? I fiori in mezzo all'erbetta Che belli Ho notato pure che di sotto c'è una porta da comprare Però costa tanto solo 500 Quindi non è un problema Io direi che per questo video ci fermiamo così Sinceramente me ne sto andando col mio furgoncino Perché ho deciso di licenziarmi Perché non è possibile Lavorare in una gelateria così bagata Che non ci vengono dati più neanche i soldi Quindi non riusciamo proprio a completare Però direi che abbiamo fatto un buon lavoro Comunque abbiamo fatto la maggior parte della gelateria Si Ha preso la sua forma E guarda come è carina Abbiamo addirittura il terrazzo con i fiori Un sacco di cose bellissime Esatto Quindi direi che va bene Abbiamo fatto il nostro meglio Con la lag Più di così non si poteva fare Si Comunque mancava soltanto quel 50.000 Che sembrava così impossibile Perché comunque la produzione non stava funzionando Non riuscivamo neanche più a prendere i soldi Quindi era meglio lasciar perdere Non sapremo mai che cos'è l'ice cream roof display Esatto Mi dispiace Cercheremo degli screenshot al massimo La curiosità per sempre Spero che ci vedete così Se è piaciuto lasciatemi un like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ta-da Ta-da